Questa è la sede del Consiglio regionale dell'Aquila, i comitati cittadini e molte persone che stanno cercando di entrare in Consiglio, naturalmente non è possibile. Di qua! Vogliamo tutti quanti di qua! Dovete vivere di qua! I comitati dei cittadini, quelli che ci sono stati forti! Siamo tutti! Tutti di qua!